Matteo, allora ieri è stata una giornata in cui quest'onda anomala l'avete visto per un paio di volte Sì, ogni tanto si ripropone, adesso era qualche giorno, invece ieri la mattina alle 10 e mezza e il pomeriggio alle 5 e un quarto, tra le 5 e le 5 e mezza, adesso l'orario preciso non so però sì sì, queste famose onde improvvise, adesso onda anomala, non so come chiamarla però sono delle onde improvvise di una certa potenza e che ha uno certo spessore di pericolosità perché comunque ieri, tra l'altro quella del pomeriggio hanno investito una nostra bagnina che era a fare il bagno con la figlia e si è ritrovata a un certo punto catapultata sulla riva del mare tant'è vero che noi in questo periodo abbiamo anche delle problematiche con la riva del mare perché l'erosione già ci dà problematiche proprio di riva in più anche tenere l'attrezzatura a nostri salvataggio, Moscone, Torrette, gli stessi lettini dei nostri clienti in riva del mare con queste onde quando arrivano, boom, puoi capire che insomma però la spiegazione non la so dare, non la so e non ho idea c'è chi dice passaggi di imbarcazioni enormi a certe miglia o scosse di terremoto mai rilevate quindi però come si verifica? A mare calmo, improvvisamente? Sì, a mare calmissimo tipo come fossimo io e te adesso in acqua col mare qui che stiamo chiacchierando a un certo punto c'è questa specie di ritiro del mare la prima volta è stato un bel ritiro di un metro, un metro e mezzo poi improvvisamente arriva quest'onda che insomma ti investe completamente quindi dipende, non è sempre uguale una volta è 50 centimetri, a volte 40, a volte un metro, a volte 80 però adesso ne arriva più di una, arrivano sempre due o tre onde non è una, è due o tre onde e poi tu ritorna tutto a posto è un fenomeno che hai visto anche altri anni tu che passi metà della tua vita sulla spiaggia? Esattamente no, a parte il bianco dell'onda detto proprio in termini marinareschi che si vede quando ci sono dei passaggi di yacht però è un'onda che ti sfiora il ginocchio per il resto io così onestamente non l'avevo mai visto dopo non so se tipo 50 anni fa non so magari sarà un fenomeno a cui ci dobbiamo abituare perché magari il mare sta cambiando non lo so, magari qui da noi magari si sente in maniera un po' più intensa perché magari non essendo coperto dalle scogliere se ci sono dei fenomeni che sono o naturali o creati da noi non so per cosa, qui si sentono magari in maniera un po' più intensa perché non siamo coperti per niente dalle scogliere per cui c'è comunque un'onda provocata da una cosa che va oltre i 300 metri ovviamente chi ha la scogliera è un po' più riparato chi non l'ha la sente con più intensità ecco tutto qua